Osefale animale per fichar 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ma 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 Leva lai ne lau ne cha cha lò Voi ma trai e fa mua mua per lò fina ngà lò Ai e chư mau per lò ne fa trao va Ai fo hi ha chư lè vi ngò in lo su a fa Yesu e cha lia maila une cha cha lò Cha cha lò Na wale paya wale paya lò loto lò fina ngà lò Fina ngà lò Na ya hoa maila wawaw na ya lò le loto mawa là lò Mawa là lò Le yo sao yo sao atuai lò mà lò Oh yesu e cha lia maila une cha cha lò Cha cha lò Ai a wale paya wale paya lò loto lò fina ngà lò Fina ngà lò Ya hoa maila paya wale paya lò le loto mawa là lò Mawa lò Le yo sao yo sao atuai lò mà lò Oh yesu e cha lia maila une cha cha lò Oh ta lò Ai a wale paya lò loto lò fina ngà lò gedau ngà lò Grazie a tutti